Eccoci, siamo in diretta, ben ritrovati, un appuntamento con My Next Book. Vediamo la prima persona che saluta, chi è? Vediamo una... a parte che c'è una luce oggi, mamma mia, sto male ragazzi. Non ho fatto la prova in quadratura perché abbiamo avuto un piccolo problema qui da casa, ma tutto a posto. Sono... aspettate ragazzi, posso dirlo? Perché Guidalberto praticamente ha dato una botta al divano, non se ne è accorto che stava lì col divano e quindi praticamente si è fatto male. Però adesso sta qui sul letto, vero amore di mamma? Sì. Sì, e col ghiaccio. E quindi oggi infatti non ho fatto prove, non mi sono cambiata. Non so. No, che ti scusi, mica è un problema amore di mamma. Quindi stavo dicendo di te, va bene.